Ciao a tutti facciamo un discorso rilassato oggi nel senso che mi rilasso io affrontiamo un argomento che riguarda i consumi e vi faccio dei piccoli esempi disco da 3,5 terabyte su questo disco abbiamo un funzionamento che va dai 5 volts ai 12 volts e abbiamo una corrente massima impotizzo essere corrente massima dichiarata che deve essere sommata di 5 volts per 0.72 che fa 3,6 watt più 12 per 0,52 che fa 6.24 più i 3.6 fanno quasi 10 watt quindi questo disco dovrebbe consumare 10 watt quindi ipotizzate di mettere 4 di questi dischi state andando a consumare 40 watt nelle vostre soluzioni un po' più veloci 7.200 giri al minuto che poi non lo scrivono più quindi questo dato spero sia quello che mi ricordo e sia giusto quindi 40 watt quindi arrotondiamo a 50 che facciamo i conti fatti bene se lo tenete acceso in un sistema nas per un anno sono 50 watt per 24 ore per 365 fanno 438 mila watt quindi ipotizzo che kilowatt dovrebbero essere 438 kilowatt all'anno quindi tenete in ordine queste grandezze da dire che non sono effettivi nel senso che quella è la corrente massima che può acquisire il disco e quindi potrebbe anche essere esserci dentro la potenza di spunto e magari consumare un po' meno quando è il risparmio energetico non viene interrogato però in linea di massima quello è il discorso quando invece parliamo di questi dischi piccolini di portatile che ho sempre detto sono lenti sì ma consumano la metà qui sopra c'è scritto che loro consumano hanno una linea da 5 volts per un ampere quindi dovrebbero consumare 5 watt esattamente la metà dell'altro 4 di questi fanno 20 watt e quindi la metà del numero che abbiamo detto prima interessante sapere anche che vale lo stesso discorso questi girano potrebbero andare in risparmio energetico e consumare meno questi qua che sono gli ssd consumano anche se hanno una linea 5 volts per un ampere quindi anche questo consuma attualmente quanto questo consumano uguali e abbiamo bassissime prestazioni contro altissime prestazioni costo allora questi potrebbero venirvi a gratis e quindi niente da dire a me una decina di questi ce li ho che mi vengono a gratis niente da dire però bassissime prestazioni questo qui con 240 costa 20 euro appena controllato 18 19 21 22 euro da 240 giga quindi significa che se io faccio prendo 4 di questi vado a spendere 80 euro ho il minimo del consumo con il massimo della velocità è ovvio che questi battono sempre tutto gli ssd questo 4 factor che vedete è quindi come dire la forma all'interno in teoria non è occupato tutto questo è stato fatto per essere simile all'altro però se lo aprite gli date una martellata vedete che ci avete dentro dei chip molto più piccoli in teoria questo sarebbe la forma e gli nv e me dovrebbero essere quasi il doppio di questi quindi nel questo spazio dovrebbero andarci due nv e me nv e me sono dei dischi che sono 4 5 volte 4 5 volte se non di più la velocità di questo disco qua che ha come passaggio dati il sata l'altro invece viene installato direttamente nella scheda madre come pci i express costano di più ma sono 4 5 volte più veloci quindi questa è una considerazione da fare sui dischi quanti watt essi consumano un'altra considerazione che vi faccio è quando consuma il mio data center quello che vedete il nodo 1 attualmente esso consuma 150 watt l'ora e con questo strumentino che si trova su internet su amazon a forse 20 euro se non erro questo è una presa intelligente che ti dice il consumo quindi grazie a questo so che il mio computer consuma 150 watt ora quando quasi sempre diciamo che quello è il suo consumo standard ecco perché non lo tengo sempre acceso ma lo accendo all'occorrenza e lo faccio funzionare all'occorrenza inoltre anche se ha sempre la scheda video collegata la scheda video consuma da sola in teoria 100 watt quando viene spremuta o interrogata di più quindi quando io gioco è l'unico caso che ho visto quando sono su assetto corsa competizione qualche volta gioco tutto il sistema perché lì bisogna metterci anche il volante che non so quanto incide ma ogni pezzo ha la sua targhetta dove noi vediamo la corrente massima la postazione consuma 250 watt solo quando viene interrogata pesantemente la scheda video quindi tutta la mia postazione consuma circa 150 watt ora e 250 watt ora quando gioco questa è l'idea che mi sono fatto grazie all'app sono riuscito a sapere esattamente quando consuma ogni componente di casa facendo le varie interrogazioni è ovvio che gli altri due strumenti che ho quindi il nodo 1 open media vault la stampante tutta la postazione non sono riuscito proprio a metterlo sotto questa presa perché questo è un asciucco e bisogna fare qualche accrocchio per metterli tutti sotto asciucco perché non ci sono riuscito ma alla prima occasione sempre a coda di questo video cerco di fare anche un ragionamento su quanto consuma circa tutta la componentistica in maniera accurata anche se ci sono comunque le targhette ad esempio potrei dirvi quanto consuma il monitor quanto consuma la tastiera aggiungo che l'alimentatore del data center è un 650 80 plus 650 watt e che quindi io non vado a consumare quei 650 watt perché ne consumo circa un terzo quindi anche andare a comprare ovviamente andando a comprare degli alimentatori da 1000 da kilowatt e kilowatt ci sono per chi gioca ma quelle vanno a sopportare magari schede video che da sole consumano 200 300 watt messe in slide e quindi hanno bisogno di corrente andare a comprare alimentatori che consumano andare con un'etichetta generosa da 700 750 a volte non ha senso perché non sappiamo quanto consumano e i dispositivi tanto che vengono sempre ridotti consumeranno sempre meno allora questa era un'idea di quello che consumano le cose circa sui data center adesso vado a mettere vado a fare le prove sulla configurazione open media vault e sulla configurazione dell'altro rottame nodo 2 anche per vedere per fare per sapere a quanto devo moltiplicare i watt che essi consumano da soli open media vault con un backup della mia macchina 100 un numerino dovete vedere quel 78 e 7 attualmente quindi sta 82 watt ora sta consumando dentro ci sono ci sono 4 dischi vediamo i dischi aspetta che me lo dice lui dovrebbe essere uno da 160 ci sono 4 dischi da 3,5 pollici quindi quelli che consumano di più ed infatti più o meno sono quelli calcoli ci sono 4 dischi uno da 150 giga e 3 da 500 20 watt l'uno siamo lì 80 watt sono quelli che consumano 20 watt l'uno come avevamo detto prima no 10 watt l'uno avevamo detto avevamo detto 10 watt l'uno quindi sono 40 watt solo di dischi e c'è un sistema che ne consumerà altri 40 oscilla adesso è 80 watt con una copia sopra attraverso la rete quindi intervene la scheda di rete l'alimentatore dispersioni varie non abbiamo schede video e abbiamo solo il processore si ram e quella roba lì e diciamo intorno agli 80 watt poco meno quando viene poco ma poco meno quando è in stand by quindi quello è il diciamo forse risparmiamo 10 15 watt open media watt questo quindi con un hardware di almeno 20 anni un hardware di almeno 20 anni questi ce li ha 20 tutti 3 dischi 3 dischi 4 dischi hanno anche loro una decina d'anni tutti quindi sono 80 watt che io accendo all'uso adesso stanno vanno avanti per un paio d'ore siamo a posto un'altra cosa da aggiungere che mi sono dimenticato è che questi dischi quindi il disco rotante e il disco ssd hanno differente differente statistica di utilizzo o di usura differente statistiche di usura questo funziona ad ore un po come le lampadine quindi qua se viene garantito per 2000 ore quando voglio attaccate anche da anche non dico da spento quando voi gli date corrente per 2000 ore lui dovrebbe cominciare a fallire questo qua invece per cicli di scrittura difficile capire quanto comincerà a fallire o che durata reale ha cioè se io dico 2000 ore ok faccio 2000 diviso le ore che ci sono in un anno capisco quanti anni va avanti di solito di solito 5 anni 10 anni dipendono quindi invece questo qua è un po più complicato perché a cicli di scrittura se io gli butto sopra qualcosa che scrive pesantemente ogni secondo lo distruggo in meno tempo quindi differente le cose tendenzialmente se volete un'idea mia che mi sono fatto è cambiare l'hardware questo qui ogni due anni e metterlo in cassaforte quindi la versione che c'è adesso io ho fatto quasi un anno con tutta questa struttura un altro anno comincio a pensare a sostituirle intorno a tre sostituisco tutto per nuovo hardware clono tutto e vado avanti altri due tre anni se volete essere a rischio quattro anni e quattro anni è già una buona vita però quattro anni dovete pensare di fare le sostituzioni del caso specialmente su dischi ssd secondo me dipende da come lo si utilizza ma quattro anni non lo so perché lì dipende proprio dalle scritture ogni quattro anni sostituzione ovviamente dal momento che noi stiamo facendo le cose ridonnanti un altro fattore da prendere in considerazione è quanto può fallire il lotto che noi acquistiamo quindi ipotizzate che io ho acquistato questo disco e poi dopo un mese ne ho acquistato un altro uguale sono lotti di produzione diversa non ho problemi ma se io ne acquisti quattro tutti uguali potrebbe arrivarmi un lotto che ha un qualsiasi difetto e riscontrarsi il difetto su ognuno dei dischi che ho comprato quindi potrebbero arrivarci lotti difettati noi ne compriamo quattro o cinque con la stessa fattura o con lo stesso acquisto e rischiamo di avere una macchina che fallisce contemporaneamente anche se abbiamo configurato ride e backup ecco perché quando cerco di fare il sistema di backup sono su dischi diversi anche più lenti ecco perché mi avete visto fare sistemi lenti però affidabili io gli butto sopra la roba potrebbero durare dieci anni perché li accendo ogni tanto e li faccio funzionare ogni tanto non li tengo sempre accesi tutti i trucchetti che ho imparato con il buon senso negli anni grazie a tutti